salve a tutti gente siete pronti per gli oscar di stasera o io io sì lo sono come avrete capito sono un grande fan dell'animazione mi piace fare le voci i cartoni sono la mia vita ed è di questa doppia categoria che vi vorrei parlare adesso miglior film d'animazione e miglior cortometraggio d'animazione quali saranno il meglio del 2016 per l'academy lo scopriremo stanotte io da grande fan della disney spero in una doppietta partiamo dai candidati nella categoria lungometraggio animato dove troviamo l'ultimo capolavoro della laica cubo e la spada magica candidato anche per gli effetti visivi la produzione svizzera la mia vita da zucchina quella francofona prodotta dallo studio libli mi pare la tartaruga rossa che da noi uscirà il mese prossimo in un'uscita limitata e la doppietta disney oceania candidato anche per la miglior canzone originale e zootropolis grande campione di incassi con oltre un miliardo a livello globale grandi critiche e premiato col premio della critica col golden globe triunfatore agli anni award gli oscar dei film d'animazione e vincitore del producers guild award nella categoria legata all'animazione nonché uno dei dieci film scelti dall'american film institute come il meglio del 2016 quindi anche io spero vivamente che vinca zootropolis anche seppure la vittoria di oceania oppure anche di cubo non mi dispiacerebbe bella cinquina peccato che non abbia ancora visto la tartaruga rossa ma il mese prossimo recupero mi spiace un sacco da grande fan della disney ma soprattutto della pixar che quest'anno non ci sia non c'è alla ricerca di tori accidenti che delusione già i golden globe non c'era ai bafta è stato candidato ma cavoli almeno una nomination all'oscar per la colonna sonora di thomas newman che è candidato per passengers però porca miseria però la pixar non è del tutto assente è assente dai lungometraggi ma è presente tra i cortometraggi e il corto in questione è piper con protagonista questo piccolo uccellino che si affaccia al mondo e che per nutrirsi deve affrontare un ostacolo come le onde che arrivano sulla spiaggia e come lo farà grazie ad un amico particolare se avete visto il corto prima di alla ricerca di tori lo conoscerete non potrete non dire che è meraviglioso un piccolo gioiello peccato che la pixar non vinca in questa categoria dalla bellezza di 15 anni l'ultimo fu pennuti spennati il cortometraggio che in sala precedeva monsters and company ed allora la pixar purtroppo non ha più vinto in questa categoria ma chissà che sia la volta buona che riesca a farcela quest'anno però deve vedersela contro avversari tosti e nello specifico sto guardando il foglio perché non mi non so se mi ricordo tutti i nomi abbiamo blind vajasha borrowed time pure cider and cigarettes e soprattutto pearl il cui registra patrick hosburn aveva vinto due anni fa con il corto disney winston titolo originale feast il corto che precedeva big hero 6 che anche quello era stato premiato con l'oscar è stata una bella doppietta disney indimenticabile annata per noi fan della disney sarà così anche quest'anno da una parte la disney dall'altra pixar io lo spero con tutto il cuore e voi fatemi sapere ci vediamo stasera ciao 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 Ciao